Sono uno come tanti, invisibile come i quartieri dove abitiamo, l'unica cosa che li distingue sono i monumenti, al bar ne abbiamo il monumento del migrante, appropriato. Aua, è ora di andare a scuola, buongiorno anche a te. Tu finisci di far quello che devi fare, portaci questa stasera, farai un figurone, mi raccomando, stasera libero. Ciao Anna, ciao Anna, ciao Anna, ciao Omar. È morto qualcuno? Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao. Ciao Anna. 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 Ciao. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao Anna. Ciao Anna.